Viva l'Italia Mi domando, ma allora se non è stato nessuno, perché? Perché mio padre non è più con me? C'è una frase del presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, che dice Potete ingannare tutti per qualche tempo o qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre Io almeno un giorno vorrei avere giustizia, vorrei qualcuno da poter perdonare Grazie